I carabinieri della liquota radiomobile della compagnia di Modica con il supporto dei militari delle stazioni di Pozzallo e Ispica la scorsa notte hanno tratto in arresto per detenzione i fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane pozzallese di soli 18 anni. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, particolarmente rinforzati nel territorio di Pozzallo, i carabinieri della radiomobile si sono accorti dei movimenti sospetti di un giovane con uno scooter sulla strada provinciale 67 in zona balneare. I carabinieri hanno preceduto ad immediata perquisizione, rinvenendo una busta contenente alcuni grammi di marijuana. La successiva perquisizione, svolta con i militari di Pozzallo, nell'abitazione del giovane, nella zona balneare di Ispica, ha poi permesso di rinvenire un panetto di circa 50 grammi di hashish e una busta contenente circa 200 semi di marijuana. Inoltre, durante la perquisizione, sono stati trovati anche strumenti per taglio e confezionamento dello stupefacente. La droga, immessa sul mercato nel fine settimana, avrebbe fruttato circa 500 euro. Il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa, che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. I servizi di controllo del territorio, in particolare nel comune di Pozzallo, continueranno nelle prossime settimane al fine di incrementare la sicurezza percepita dai cittadini. Grazie a tutti.